hola sono francesco yoshi e ho perso i capelli adesso è un po buio sto girando di sera e quindi non si vede molto ma fidatevi che l'ho perso e questo è successo perché stavo cercando su internet il motivo per cui le ssd sono migliori delle degli hard disk gli ssd sono i solid state drive e praticamente sono quelli che trovate nei portatili di oggi quelli che permettono insomma che il computer vada più veloce però costano un botto perché c'è questa grande differenza praticamente gli hard disk funzionano con dei dischi messi l'uno sotto l'altro e girano tipo gira dischi di una volta quindi con la puntina che dice ok qui c'è questa traccia sono le danzare che mi pungono qui c'è questa traccia e allora per poter leggere tutta la traccia e quindi tutta la canzone quindi tutto il vostro video se state vedendo video per esempio lui deve parte dall'inizio gira tante volte finché è finito il video però quando è che si rallentano quando voi avete un pezzo di video qua e un pezzo video dall'altra parte allora la puntina deve andare là poi deve fare un giro e poi va lì per questo scattano i video e non è il solo motivo un altro motivo è per cui non riesce a girare abbastanza velocemente quindi la traccia è quella però mentre qui deve essere dall'altra parte per poterlo vedere quindi si blocca ma le ssd sono diverse loro accedono contemporaneamente in tutte le parti c'è più che contemporaneamente hanno possibilità di accedere nello stesso momento in più punti e sono composte diversamente ci sono dei quadratini ci sono queste questi blocchi e questi blocchi praticamente contengono i dati e perciò viene tutto quanto letto dei blocchi e non viene letto da un disco che da una puntina che gira magnetica questo permette di accedere istantaneamente a tantissimi dati perciò diciamo che la limitazione degli hard disk sono le letture al secondo perciò tu quando apri una cartella devi vedere le anteprime cosa succede che te ne carica una due tre quattro in pieno le carica però questo non accade con le ssd perché lui ti carica magari nello stesso momento ti riesce a caricare o tutte o comunque questa poi quella dopo c'è papapapam questo perché perché un secondo equivale a 20 circa file 80 200 seconda della che avete mentre nelle ssd abbiamo un 8000 9000 10.000 file al secondo che questo non vuol dire mega giga spazio insomma dimensioni pesi questo significa che ogni secondo voi riuscite a copiare tot dati infatti un hard disk anche se copi 200 file mettiamo però da un kilobyte quindi tecnicamente dovresti trasferire istantaneamente un kilobyte fai fretta contro giga però invece ci puoi mettere più tempo che un file da un giga perché perché lui riesce a copiare tot file al secondo e basta perciò ci mette molto di più mentre con un ssd a parità se tu avessi 10.000 file da un kilobyte te le copierebbe praticamente istantaneamente cosa che l'hard disk ci metterebbe un'ora perciò questo è uno dei motivi principali e poi ho scoperto anche perché noi praticamente compriamo le ssd ovvero compriamo un telefono o compriamo una memory card ma dopo un po non funziona più e dobbiamo buttare il telefono il problema non è nel telefono in sé quindi nella scheda per la trasmissione dei dati e piuttosto che nel bluetooth nello schermo il problema sta proprio nella memoria perché noi possiamo solo scrivere 10.000 volte più o meno in media i file che abbiamo noi sopra nella scheda quando noi andiamo a scrivere 10.000 volte e si fa abbastanza in fretta ad esempio scattiamo una foto poi la foto la copiamo sul computer la cancelliamo poi andiamo a scattare un'altra foto questa foto viene sovrascritta sostanzialmente praticamente noi scriviamo di nuovo sulla scheda ok che c'è dentro una cosa hanno la capacità logica di dire ok queste noi abbiamo cancellato da qui questi noi non li cancelliamo li teniamo da parte e scriviamo sui blocchi nuovi mai usati ma prima o poi i blocchi mai usati soprattutto se nuovo il telefono vengono poi saturati quindi dobbiamo ricominciare a scrivere sui blocchi che avevamo quelli che abbiamo cancellati e quindi abbiamo fatto una scrittura quindi noi nell'uso del telefono quindi ricevemo un messaggio e dopo lo cancelliamo quindi andiamo su internet e ci sono magari facciamo una formattazione quindi cancelliamo tutto e andiamo a scriverci sopra prima o poi arriviamo a saturazione insomma nel giro da un anno o due e il telefono praticamente da buttare perché non riesci più a utilizzare i dati non riesci valento per qualche motivo dice che la memoria è piena invece non è vero in realtà è piena perché i blocchi si dopo che hanno raggiunto il loro massimo ciclo vitale non si possono più usare diventano inutilizzabili e quindi il telefono dice ok quello lì è memoria piena perché non li può usare perciò quello che posso dire se avete occasione di trovare delle memorie del telefono non buttate via il telefono prendete la scheda di un usato di uno che trovate magari buttato via o di un amico che la vuole buttare via prendete via scheda di memoria e sostituitela la vostra perché magari quello dell'amico si è rotto lo schermo e lo butta via ma in realtà no non serve cioè si serve essere rotto lo schermo però a uno che funziona tutto però gli dà questi problemi ecco sostituisce la memoria e risolto il problema stessa cosa con le SD card ci sono quelle da 8 giga quelle da 12 no da 8 da 16 da 32 multipli ovviamente più grande sarà la memoria meno probabilità anzi più lungo sarà il ciclo vitale perché la nostra otto la riempi più velocemente e i blocchi sono limitati quindi tatatatatatata ricominci tatatatana ricominci mentre una dato 64 giga qua succede che prima deve completare 64 giga poi torni indietro sostanzialmente ti dura 8 16 24 32 dura circa 6 volte di più perciò comprate piuttosto una da il doppio di spazio però sapete che non dovete sostituirla che non vi dà errori, ecco ad esempio mi dà un errore a me nella schedina quella che ho nel telefono, mi piacerebbe prendere un altro scusami però mi farebbe comodo perché mi dà errore a volte i dati si cancellano completamente mi dice che i dati hanno un nome strano e non riesco più ad accedere non è un virus, io pensavo fosse un virus adesso mi sono bloccato il virus e è formatabile e l'ha successo due volte questa volta ho scoperto che invece no il problema non sta nel virus il problema sta proprio nella schedina, dovrei cambiarla e stessa cosa per il telefono che ho la memoria saturata, ma come è possibile ho 700 mega liberi, ho un giga libero e un giga libero mi dice che è pieno perché? perché io lo uso abbastanza il telefono per montaggi video piuttosto che per scrivere faccio un sacco di cose e quindi io lo uso e perciò la memoria interna è sempre scritta, cancellata, scritta, cancellata scritta, cancellata, fai in fretta poi c'è anche una differenziazione da fare nel senso che le memorie quelle che hanno, quelle nuove tipo la Samsung le adotta che hanno più strati riescono a scrivere contemporaneamente due bit al posto di uno insomma su due celle su due blocchi contemporaneamente quindi sono messi tipo tipo i dischi degli hard disk sono messi uno sopra l'altro e quindi riesci a scrivere molto 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 più velocemente ed è comodissimo se lo uso esempio per lavoro io per i montaggi mi farebbe moltissimo comodo perché Fram in un attimo ho scritto due volte e oltre ad essere veloce perché è veloce l'SSD avrei anche il vantaggio che scriverei nella metà del tempo queste ecco nuove schede hanno lo svantaggio invece di durare molto meno perché? perché quando noi andiamo a cancellare un dato noi non cancelliamo un dato cancelliamo tutto il blocco sia sopra che sotto perciò ci sono praticamente tutti i dati che sono lì vengono cancellati e quindi abbiamo l'utilizzo di più blocchi e perciò il ciclo vitale è anziché appunto 100.000 sarebbe 100.000 di quelli classici abbiamo un 10.000 quello di cui parlavo prima ho già preso come esempio ecco le nuove schede forse sui telefoni non so quali ci siano installate dovrei andare a controllare ma penso che ci siano quelle ancora vecchie da 100.000 cicli diciamo e perciò forse vi dura anche un po' di più però ecco andiamo verso un futuro in cui si utilizzano questi doppi e la durata sarà molto inferiore e questo non è tanto bello perché dovremmo cambiare più spesso telefono inconsapevolmente di questo problema e perché le schedine che compriamo saranno meno efficienti cioè avranno longevità inferiore una cosa che è buona invece è che se voi utilizzate la schedina o l'SSD questo non vuol dire invece che voi andate a cancellare i dati perciò i 10.000 100.000 cicli in realtà sono riferiti alla scrittura non alla lettura anzi la lettura va benissimo perché tu non modifichi niente se tu leggessi e basta da un hard disk da un hard disk a stato solido succederebbe che voi potreste utilizzarlo praticamente per sempre perciò se lo utilizzate per file grandi ok se lo utilizzate per file piccoli fateci attenzione tipo se ci scrivete i documenti può essere un problema perché scrivi salva scrivi salva scrivi salva scrivi salva sono sempre tantissimi blocchi magari utilizzatelo io dico come archivio in cui mettete magari video in hd che volete vedere veloci perché altrimenti non ci riuscite magari ci mettete file grandi file che non riuscite a gestire oppure se avete possibilità di cambiarlo nel tempo utilizzatelo come file come sistema tipo operativo per avviarlo velocemente utilizzatelo per scambio dei dati veloce insomma come dicevo ad esempio se installate un programma o pulite un programma che richiede tanti caricamenti di file ecco ve lo apre molto più velocemente se avete un software che deve scrivere i dati tipo nel montaggio video tu devi salvarti le anteprime se vuoi vedere quello che hai fatto se hai fatto della correzione di colori piuttosto che magari la correzione audio o hai messo degli effetti allora tu fai il rendering e lui ti salva questi dati se tu hai possibilità di salvare su un ssd ecco che hai un vantaggio notevolmente superiore quello che non ho capito è quando si formatta un qualsiasi harddisk ad esempio da windows tu fai formatta e gli devi dare le dimensioni dell'unità di allocazione ovvero neve che harddisk e cluster che sarebbero diciamo qua abbiamo la puntina che ha un buco perché in realtà c'è musicale fino a un buco che viene letto e qui abbiamo il buco e gli diciamo che tutto quel pezzo appartiene a a quella traccia musicale comunque ecco per chi se ne intende faccio questa domanda questa interrogazione ma se ci sono i cluster negli harddisk e fin qui ci siamo nella formatazione con dimensioni unità di allocazione dopo invece quando io vado a formatare un ssd unità di allocazione come le conto come ci faccio riferimento non ci sono i cluster negli ssd vi lascio comunque questa domanda per chi sia nintendo spero di non una risposta al prossimo vlog questo era molto diverso dal solito e sono francesco yoshi se volete qui sotto c'è l'iscrizione il like se volete darmi un like perché vi ho convinto a usare l'ssd se no se non vi ho convinto scrivetemi perché non vi ho convinto un saluto see ya